Ben tornati SOS Aghezzo TV, è in partenza il Circo Medrano che ha fatto spettacolo in questi giorni ad Aghezzo, siamo con il signor Casartelli, buonasera. Salve, buonasera. Beppe Marconi. Ciao, io sono venuto al circo dopo 20 o 30 anni, effettivamente ho visto uno spettacolo di alta classe, veramente mi devo complimentare con il signor Casartelli perché stava veramente ad alto livello. La cosa bella è essere venenato il primo giorno, venire l'ultimo giorno è anche brutto per noi. Lo sai perché? Perché questo abita al lago Trasimeno e non c'è mai, arriva il martedì. Una stupidaggine che ho notato, uno paga l'articolo sul giornale, abbiamo fatto un bellissimo posto sul giornale e poi sul giornale di Arezzo, il Corriere, neanche un trafilo o un giornalista che è venuto a vedere lo spettacolo, una critica, qualsiasi cosa, niente, peccato, peccato. Però il pubblico ha risposto benissimo. Sì, penso proprio di sì, era giovedì sera, anche giovedì sera era pieno. No, no, era bene, era bene. Veramente è stato, Fabio, è stato veramente un bello spettacolo. Ne siamo, ne siamo contenti. Siete soddisfatti? Molto, molto, molto. Arezzo si fa ogni tre anni, all'incirca, perché quando si fa la città di Napoli, poi salendo si fa Arezzo per poi andare da altre parti. Si è parlato del vostro circo in questi giorni, c'è stata una protesta abbastanza silenziosa degli animalisti. A noi queste proteste non ci piacciono, non ci convincono più di tanto. Rispetto ad altre città è stata più silenziosa di altre? No, la verità è, protesta pacifica è già una bella cosa, che non offendono il pubblico che viene. L'unica cosa che mi è dispiaciuto, tra virgolette, è che li lasciano protestare nel marciapiede dove deve passare il pubblico. Li mettessero a 50 metri, dall'altra parte non romperebbero le scatole, perché non è un rompere, è una cosa proprio mia, non è un rompere le scatole. È una maniera di protestare, ognuno è libero di dire e fare quello che vuole. Siamo in un mondo libero, se uno vuole protestare è giusto che protesti, ma non di fronte alla biglietteria o intralcino al passaggio del pubblico. E poi forse era il caso che venissero a vedere il circo e vedere come trattavano gli animali, perché effettivamente, guarda, anche ti dicevo prima, il numero delle tigri è stata una cosa impressionante. Non aveva visto mai un domatore in una gabbia trattare il tigre, come trattate il signor Casetta e il, non so come si chiamava il domatore, è stato veramente eccezionale. Aveva un feeling con i tigri, forse più che con sua moglie lui. Perché secondo voi c'è questo pregiudizio sul fatto che un circo deve per forza maltrattare gli animali? Questo è un pregiudizio, quindi nessuno pensa a vedere prima di parlare. Io vedo e poi posso esprimere la mia idea, giusto? E invece uno già viene con l'idea, ma poveri animali stanno male, soffrono, invece no, vengono i veterinari, perché i veterinari vengono, viene la forestale. Tutti gli enti competenti vengono perché a noi ci scrollano proprio, ci devono controllare dalla testa ai piedi, perché questa è la verità. Poi soprattutto il loro interesse, visto che vivono nel circo, il circo è fatto dagli animali, i bambini vengono soprattutto per quello. Quindi di conseguenza il loro interesse è tenerli animali così come si deve. Forse ad esempio i cammelli stanno meglio qui che nel Turezzara. No, ma qui si mangia, in Italia si mangia bene. Il settore è uno dei pochi spettacoli itineranti, il circo rispetto a viviamo in un mondo molto complesso, non so anche se la crisi ha colpito anche il vostro settore. Quanto è difficile continuare a farlo? Difficile no, perché innanzitutto un circo come il Circo Maddo, dove ci sono circa 100 persone che lavorano, diciamo 50, la metà all'incirca, e fa parte della famiglia Casartelli. Quindi se c'è un momento di flessione la famiglia assorbe e questo è una grande risorsa per un circo, un circo così grande. E quindi si cerca di assorbire il più possibile. La famiglia lo fa, altrimenti la famiglia a cosa serve? Uno dice, giusto? Questo è bello del nostro mestiere. Crisi ce n'è, perché sarei stupido bugiardo a dire che non c'è crisi, però poi c'è la soddisfazione che arrivi in una città come Arezzo e riesci a lavorare come abbiamo lavorato. E quindi questo ci riempie, ci dà una carica per affrontare poi il futuro, perché la verità è che siamo in una vita, al giorno d'oggi si guarda al domani, non si guarda più tra 10-15 anni e quindi questo ci dà la forza ad andare avanti. Bene, è bello questo concetto della famiglia che la società in generale ha perso, invece è bello come senso anche di comunità. Sono d'accordo con te, in effetti è la forza, quindi la famiglia diventa la forza del circo. Come diceva Casaltelli, altrimenti se no non ci sarebbe possibilità di poter andare avanti. Io penso che i costi di un circo siano molto elevati, anche so che sicuramente lo Stato qualche contributo ve lo dà, ma anche mantenere gli animali, tutti gli animali che avete voi, tutti i giorni penso che questo sia abbastanza. Ovviamente lo Stato ha ridotto, come per tutti e per tutto. È una cosa irrisoria, però c'è, quindi non bisogna dire di no. La cosa più importante da dire è questa, che il circo, ogni città che cambia, quindi ogni settimana all'incirca, affronta le spese di una fabbrica, come se si deve riallacciare l'acqua, la luce, la commissione, tutto. Quindi immaginate voi le spese, si fanno all'incirca 40 piazza all'anno, quindi per 40 piazze questo. La nostra fortuna è che riusciamo a uscire e andiamo all'estero, adesso noi facciamo Castelfranco, poi si andrà in Slovenia. E all'estero c'è meno burocrazia, meno spese, si riesce a vivere meglio, questa è la verità. La cosa che volevo dire io è questa, che il circo Medrano, come il circo Moir Orfei o il circo Togni, sono circhi grandi, il circo americano sono circhi grandi, quindi sono un po' delle fabbriche grandi. Però volevo dire anche i circhi piccoli, al pubblico di andare a vedere tutti i circhi, perché è normale, al circo Medrano uno sa vedere uno spettacolo grande, al circo piccolo vedrà qualcosa di più piccolo, però è sempre un bello spettacolo e secondo me è anche istruttivo per i ragazzini, i bambini, parlavamo del fatto della famiglia, soprattutto nei circhi piccoli, si vede molto il fatto della famiglia che lavora, che collabora insieme, per arrivare a un risultato. Molte volte la famiglia basta che lavora. E allora buon proseguimento per queste altre date. Di nuovo complimenti per lo spettacolo. Io vi invito alla prossima volta, il primo giorno, perché la sera del debutto è una sera un po' speciale, quindi è bello esserci, è bello anche per voi essere e per presentare qualcosa di veramente bello. Fatti regalare un cavallo. No, non regaliamo. Ma tornate tra tre anni o anticipiamo? Tre anni, tre anni. Grazie, a domani. Ciao. Ciao.